Il Comitato per le Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Padova esiste dal 2012. Non è un'associazione in senso tecnico, ma ha voluto essere presente oggi per farsi conoscere sempre di più anche ai giovani. Che cosa facciamo? Chi siamo? Dove ci potete trovare? Beh, siamo in sei e veniamo eletti ogni quattro anni come i consiglieri dell'Ordine. Che cosa facciamo? Beh, individuiamo le situazioni di disparità di genere tra le colleghe e i colleghi, le praticanti e i praticanti. E ancora abbiamo un'attenzione particolarmente dedicata a quelle situazioni di disabilità temporanea o permanente e nei confronti delle colleghe e dei colleghi che faticano a raggiungere gli uffici giudiziari o che non possono presenziare personalmente le udienze. Vogliamo essere una rottura nei confronti del passato, vogliamo promuovere i principi delle opportunità e fare in modo che la società raggiunga un progresso culturale che fatica ancora ad avere. Dove ci potete trovare? Beh, se volete mandarci suggerimenti, indicazioni o segnalazioni abbiamo una mail comitatopariopportunità chiocciola ordineavvocati.padova.it. Grazie.